Eccoci tornati in diretta cari ragazzi, come ogni mercoledì che si rispetti, oggi si respira aria di Sud America. In tal senso noi riapriamo quella che era la rubrica di Simone Camberini sui talenti sudamericani. Ce n'è anche uno di cui abbiamo parlato già in queste settimane, che coinvolge anche direttamente la Lazio, perché è un giocatore nel mirino dei Biancocelesti, ma il primo che andiamo a recensire non è lui, ma è Marlone, che è un giocatore che gioca nel Corinthians nel ruolo di trequartista, quindi prego a te Simone per farci questa recensione. Sì, un calciatore, Marlone è un classe 92, che ormai sono diversi anni, ecco appunto anche in grafica i dati statistici e anagrafici del calciatore, che è un trequartista, qui viene da come ruolo alla sinistra, insomma è un giocatore di talento che gioca nel reparto offensivo alle spalle della punta. È stato un po' la nella verità per lui, come per tutto il Corinthians, che ha dovuto vivere una situazione molto difficile, visto che ha venduto praticamente tutti i migliori giocatori dopo aver vinto due volte in fila il campionato, la maggior parte sono andati in Cina, poi ha perso l'allenatore e che allenatore, parliamo ovviamente di Tite, è passato a guidare la nazionale brasiliana. Era un po' la nella verità in generale, la squadra si è sempre affidata a giocatori molto tecnici, c'era Romero e lui è stato in grado di essere uno dei giocatori trainanti di questa squadra. Parte da sinistra, però è destro di piede, calcia molto bene da fuori area, secondo me è un prospetto che deve migliorare soprattutto sulla continuità, perché comunque ha sprazi di talento, ma in alcune partite praticamente non si vede. Se riuscisse a migliorare su questo aspetto, visto che ormai ha 24 anni, potrebbe essere un calciatore anche pronto per un campionato per l'Europa, penso che per squadre di media classifica anche nel campione italiano possa essere l'ideale, perché è un giocatore che ha tocchi di imprevedibilità, che mancano a un sacco di squadre del nostro campionato, e quindi può essere sicuramente un profilo interessante, tra l'altro piace anche molto a diversi club italiani, e credo che dopo quest'anno a Corinthians, in cui ha avuto degli alti e bassi, ma molti più gli alti che i bassi, secondo me può essere anche un prodotto esportabile. Può essere sicuramente un prodotto esportabile, anche alla luce del fatto dei diversi interessi che hanno anche dei club italiani, per quanto concerne lui. Ieri si è parlato anche di Atalanta, ne ha parlato nello specifico Gianluca Di Marzio, ma c'era anche Andrea Di Lella, intermediario agente FIFA, che sul giocatore, oltre a conoscerlo molto bene, aveva delle notizie da darci. Prego Andrea. Sì, sì, no, io confermo quello che ha detto Simone. Tra l'altro io credo che Marlone sia in una situazione forse più per giugno che per gennaio, proprio in virtù del periodo di ambientamento che devono avere questi giocatori. Il ragazzo è sicuramente salta l'uomo. Alla sinistra c'era scritto, in realtà, come dicevi anche tu Simone, è un trequartista, ma svaria un po' su tutto il fronte dell'attacco. Tra il centro-sinistra, insomma, ha fatto anche delle partite dove ha giocato esterno-sinistro, anche un 4-2-3-1. Però, ecco, è un giocatore che va anche, ha molta accelerazione, dà degli strappi, quindi, come dicevi tu, Serie A in alcune squadre ci può, secondo me, giocare. A gennaio, io la vedo una situazione un po' complicata, perché a gennaio le squadre vogliono giocatori pronti. Questo è un po', tra virgolette, il problema. Però è un giocatore che, secondo me, in Italia ci può arrivare. Bisogna anche capire il lato caratteriale, perché molto spesso i sudamericani, i brasiliani in particolare, faticano un po', non solo col campionato, faticano anche un po' nel incastonarsi nella vita professionistica di un campionato qual è la Serie A. Perché sappiamo che, insomma, devi fare professionista se vuoi provare ad emergere, perché lui è già un classe 92, quindi, dobbiamo un po' vedere. Allora, c'è una domanda che giro a te, e una di conseguenza, siccome mi hai dato l'assist, anche a Simone Gamberini, quella che giro a te è relativa anche all'Atalanta, perché hai detto che, oltre a Marlone, aveva monitorato un altro giocatore, e me l'hai detto privatamente, puoi spiegarci un attimo di chi si tratta, e poi vado anche da Simone, prego. Sì, guarda, l'Atalanta sicuramente sta monitorando il ruolo di esterno-sinistro d'attacco, quindi, così, mi risulta, aveva valutato, monitorato, Dorin Rotario, che è un talento della Romania, uno dei maggiori talenti rumeni, che gioca nella stava a Bucharest, e che credo possa, in generale, se continuerà con le prestazioni che sta avendo nel proprio paese, potrà sicuramente avere un futuro rosio al di fuori del proprio paese. Tra l'altro sul giocatore c'era anche un interesse forte del Palermo, che però credo non si sia concretizzato, anche perché oggi è 18 gennaio, la scadenza è il 31, però, diciamo, le trattative si stanno, tra virgolette, per chiudere, perché poi le trattative, soprattutto internazionali, non ci sarebbero più i tempi tecnici. Cioè, se non sono, tra virgolette, apparecchiate già in questi giorni, o già, ovviamente, anche da prima, chiuderle poi alla fine, molto, molto, molto complicato. Diventa sempre molto complicato, quello che volevo chiedere, invece, a Simone Gamberini, siccome Andrea Di Lella antecedentemente parlava di potenziali problemi caratteriali quando i brasiliani arrivano, non solo in Italia, ma in Europa in senso generale, su Marlone, che conoscenze ha in tal senso? È un giocatore problematico, oppure si sposa bene anche dal punto di vista caratteriale per un eventuale ingaggio europeo? Beh, per ora, dimostrare di essere un giocatore che a livello caratteriale è abbastanza normale, penso non abbia problemi gravi a livello di testa, a livello di spogliatoio. Sì, è un giocatore estroso, quindi ha un cervello che certo oltre ragiona troppo in fretta, però comunque può avere, secondo me, altri tipi di problemi, come per esempio il fatto che il campionato in Brasile è fermo da inizio dicembre e tra due settimane cominceranno i campionati statali, mentre il Brasile Rau comincerà addirittura a maggio. Quindi la condizione fisica a gennaio di un brasiliano non è il massimo della forma e per questo è ancora più credibile che se ci dovesse essere un arrivo sarà per l'estate. Oltre a Marlone gioca in Brasile Wallace De Sousa Silva, abbiamo parlato di lui in questi giorni con diversi nostri opinionisti, ha parlato soprattutto però il suo procuratore Rogerio Brown che lo avrebbe proposto anche la Lazio a partire da giugno, ricordiamo, un mediano, classe 1995, quindi parola a Simone Gamberini, quindi chi meglio di lui per poterci tracciare un profilo sul giocatore. Simone a te e poi andiamo a sentire anche le parole di Andrea. Sì, Wallace è un ottimo centrocampista che ormai sono già tre anni che lo vediamo in azione nel Gremio e nel Brasile Rau, appunto qui le coordinate che ci vengono date su altezza e peso ci danno proprio l'idea di che tipo di giocatore ci andiamo a trovare incontro. Diciamo che a livello fisico anche di impostazione tattica come gioco ricorda un po' il condobbia visto soprattutto a Monaco riferisco ovviamente per un migliore rendimento sul campo però secondo me anche un giocatore che ha nel suo DNA giocate più tecniche ecco sa giocare molto bene in fase di offensiva però ha anche una vocazione per la spinta offensiva mi sembra che conduca anche molto bene la palla con questo tocco d'esterno destro molto sudamericano come dicevo sono tre anni che gioca in prima squadra ha già affrontato esperienze internazionali e secondo me può avere anche un futuro due anni fa no l'estate scorsa l'estate dell'anno scorso era stato vicinissimo alla Fiorentina poi rimasto al Gremio e quindi penso che comunque lui mentalmente si sia abituato ad un possibile salto di qualità e credo che sia anche pronto però il stesso discorso che vale per Marlone giocando nello stesso campionato a gennaio un brasiliano non arriva al top della forma assolutamente sì andiamo a sentirci anche l'opinione in tal senso di Andrea Adilella Andrea parola a te sì ha detto tutto Simone confermo tutto tra l'altro ecco lui già lo considero pronto sempre da giugno ovviamente per giocare in Italia perché sembra avere proprio le stigmate del del giocatore di classe giocatore solito giocatore concreto giocatore che non disdegna come diceva Simone il tocco di esterno destro insomma c'ha anche non solo recupera il pallone ma anche quella prima fase di costruzione che a una squadra può servire tre anni che gioca nel gremio oramai non solo se è ambientato perché è molto giovane 21 anni però è anche secondo me anche mentalmente più pronto addirittura di Marlone già per il grande salto in un campionato europeo spero di vederlo in Italia tra l'altro perché sono molto curioso sì anche perché poi mentalmente rispetto a Marlone è anche abituato a giocare competizioni di un certo livello mi viene in mente soprattutto l'Olimpiade dove è stato uno dei protagonisti che ha permesso al Brasile di vincere l'oro a Rio e quindi di conseguenza non è la nazionale verde oro quella classica però anche giocare a quei livelli e vincere un'Olimpiade insomma ti proietta già verso orizzonti internazionali mentre Marlone può essere un giocatore che può arrivare in Europa ma parliamo sempre di un giocatore normale qui parliamo di un potenziale titolare nella nazionale brasiliana futuribile in tal senso quindi io sono d'accordo con voi quando dite che è pronto io poi l'ho visto sempre giocare mediano perché ho seguito le Olimpiadi mi sono informato sulle sue partite per quanto concerne il Gremio vedendo qualche spezione su Youtube ma ho letto anche che lui all'occorrenza può fare anche il centrale difesa beh io francamente non ce lo vedo perché è un giocatore che ha buone doti tecniche lui secondo me è ideale se si gioca in un centrocampo a due in un 4-2-3-1 quella è la sua posizione naturale e non fa neanche tanta differenza schierarlo a sinistra a destra perché comunque appunto lui ha un po' il vizio di toccarla spesso con con l'esterno del destro quindi anche giocando a sinistra sarebbe sempre orientato verso la porta mi sembra che per le sue caratteristiche debba giocare là e non ci si possa inventare troppe trasformazioni anche se comunque in Serie A abbiamo visto tanti centrocampisti adattarsi in difesa negli ultimi anni quindi potrebbe essere anche un'innovazione particolare però credo che prima debba crescere come mediano perché insomma va incontro anche a un momento particolare della sua carriera adesso comincerà la Coppa Libertadores per lui da febbraio quindi arrivano anche impegni importanti e credo che debba costruire la sua identità come quella di mediano perché lo fa davvero molto bene sì assolutamente sì anche se poi il calcio ci ha stupito in salsenso perché poi abbiamo visto ad esempio Daniele De Rossi che ha fatto per una vita il mediano e poi praticamente il nazionale ha fatto anche il centrale di difesa abbiamo visto Simeone padre nel fine di carriera dopo essere stato un ottimo mediano fare il centrale di difesa nell'Atletico di Madrid quindi poi il calcio a volte è strano però io credo che poi in questo caso sono perfettamente d'accordo con voi allora Simone l'ha paragonato a Condobbia tu invece a chi lo paragoneresti Andrea? guarda il paragono che facevi tu più o meno con De Rossi tu lo facevi dal punto di vista dell'abbassamento di De Rossi nei centrali di difesa lo condivido nel senso che non adesso la penso come Simone in questo momento lui deve costruirsi la sua la sua carriera da mediano perché quello è però credo che in generale in un campionato tattico come quello della Serie A potrebbe anche fare più o meno come Daniele De Rossi perché lui ripeto non è un costruttore di gioco non è il classico regista però nella prima costruzione quindi in un centrocampo a due tra l'altro come diceva Simone concordo in pieno e lui ecco può dare può dare la palla può aprire il gioco però non non essendo il classico regista ma può rubare palla e subito trasformare l'azione da difensiva in offensiva quindi credo più o meno ecco sullo stile di Daniele De Rossi come dicevi tu perfetto a questo punto ricordiamo Wallace de Sousa Silva giocatore che nel Milano della Lazio per quanto concerne giugno in tal senso ha aperto il suo procuratore Rogerio Brown che inevitabilmente lo vorrà portare in Europa per quanto concerne l'inizio della prossima stagione ma sicuramente se non avverrà per quanto concerne la Lazio lo vedremo comunque in Europa perché comunque siamo destinati a vedercelo perché giocatori di questo livello prima o poi lasciano sempre il Brasile a questo punto cambiamo completamente tema perché intanto è finito il primo tempo tra Gabon e Burkina Faso per quanto concerne la seconda